sì sì harry potter vende come il pane qualsiasi cosa di harry potter vende basta pensare che ogni sei mesi fanno la ristampa nuova dei libri tra poco allora rimane solamente da capire se meglio questo subtitle english english o questo qui english e basta penso questo però vediamo allora dal vivo ign questi ovviamente non sono quelli ufficiali lasciamo qui sì sì anche secondo me la danno la data da uno state of play dedicato solo a wards legacy per me ci faranno vedere anche la data però saio nella vita non si sa mai una collector cosa ci potrebbero fare stavo pensando un art book per forza una bacchetta una replica di una bacchetta scontato o chi lo sa perché di un personaggio noi siamo un personaggio qualunque quindi non è possibile fare una figure lo so tipo è di harry potter ecco per un stato sul nemico sarebbe uno spoiler clamoroso boh non lo so non lo so 50 secondi mamma mia matonna dateci sta data se no ci incacchiamo come delle iene siamo di qua sviluppatore avalance software sviluppatore avalance software va bene editore warden bros quello che è chi ci ciao ci siamo otto secondi sette sei ma perché è partita la voce a caso primo va bene ah ho letto che ci saranno delle musiche copyrightate probabilmente quindi caricamento su youtube sarà complicato o il vodhunk se è basso ditemelo anche alzo subito alzo dell'ippogrifo è vero ci può stare o dai 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 madonna con questo non si esce più di casa e comunque ve lo dico secondo me non possono deluderci dopo tutto il tempo che ci hanno fatto aspettare la qualità è al massimo e chiaramente non si può pretendere nulla di che poi lo ricaricheranno in 4k immagino figata la colonna sonora porca vacca la colonna sonora per la colonna sonora per la colonna sonora con un'unica abilità di manipulare la magia inizia 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 a da rex che figata eccolo character creation creator una donna che cura bellissima carica e che 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 of chance now this will be a crucial year in your education on the art of charm work but I am confident you will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge the best way to practice is by dueling we'll start with you to time for a proper Hogwarts welcome you may begin you'll meet your professors and learn to cast spells grow magical plants brew potions and more in between classes you'll be able to explore the castle famous for its secrets and mysteries you'll discover dungeons and secret passageways you may even find yourself in iconic locations you've never been able to it's the late 1800s so while the common rooms and classes may be familiar most of your professors will not be however you may recognize a few faces nick quasi senza testa you'll come to know this eclectic group of talented witches and wizards in class and while completing side you'll come to know this is a special curriculum one designs to help you catch up with the other fifth years at your own speed naturalmente hanno detto che location saranno familiari ma i professori no perché ci sono altri professori si parla di cento anni prima the magic of abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you unravel the dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic professor fig to try and discover if the rumors of a mountain goblin rebellion hold any weight and if the safety of hogwarts la ribellione dei dei goblin the opinions differ as to how great a threat he really is cavolo quindi questo è il villain principale i loyalists are capable of so much more than people realize the wizarding world of this era is fraught with dangers creatures corrupted by a magical force powerful goblins and sinister witches and wizards all willing to fight even kill to achieve their own goals in fact there's an uneasy alliance between the goblins and the dark wizards you said you could get to the child when they came to hogsme that all you needed was a distraction i gave you a distraction i just watched a student take down your distraction who is this child are you not telling me but perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet let's go oh oh adesso poi qui è in bassa risoluzione è in live quindi non rende ma sono sicuro che qui ci sarà un graficone clamoroso ragazzi guarda che figata ah ha vato a cadavra e spelliarmus ma non c'è se non si ben i morti se non si potrebbero attaccarsi direttamente obbligare se non mi prevenire se non mi né se non mi metto e non mi metto se non mi metto se non mi metto scudi Mi piace, mi piace, mi piace. Il gioco tanto, suppongo, sarà localizzato in italiano, per forza, ne? Non lo so se è anche doppiato in italiano. Non ho letto nulla al riguardo. Spero di sì. Incendio. Vabbè. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. On your path to become the ultimate duelist. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. In addition to classes and spells, you'll have access to a deep set of upgrades, talents and skills to aid your progression as a wizard. Bello. Pozioni? Sì. Vabbè. Classico. Ce le fabbrichiamo da soli. Spells are not the only tools at your disposal in combat. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing your development as a witch or wizard. Bello. Brew potions that can increase your power when you need a boost. Grow and deploy magical plants to mob the battlefield and keep your enemies at bay. You can even unleash deadly mandrake seedlings to incapacitate your enemies at bay. In this class you will learn about a variety of magical beasts you might encounter both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. Sbaglio, quella è una creatura vista in animali fantastici. Oh, ecco, fanno vedere anche... Il volo con lo scopo. Lo snaso, eh, è vero. Mi ricordavo il nome. È lui, è lui. Natsai Onai è un avventuratore bravo driven by the justice she seeks. Poppy Sweeting ha un kind heart and loves magical beasts. Connecting with them more easily than with humans. Ma cosa succede adesso? Non afraid of detention or breaking the rules... Figur che si possa... ...interagire con le persone per farseli appunto amiche e poi poter fare varie attività con loro. No, guarda che figata bello. Gesù le persone per farseli appena bene. Sì, inoltre in qualsiasi. Un grande luogo di 빛 staglio è il giunto di gioco. Un' ampio più esplastanza di Hogwarts è il gioco, il gioco il gioco. Perciò che bisogna riuscire ai vostri amici, il RIM ci ha spazio per farvi e farvi strumenti, creare potenti e migliorare la tua posizione. Una sorta di hub. Un'automobile house elf, chiamato Deek, aiuta a scoprire i varianti che aiutano a curare la tua menageria di magiche. Cosa è? Deek non è sicuro. Solo una forma di trovare. Puoi costumisare questo spazio per riflettere la tua personalità e le specialità magiche. Ultramuri di casa, eh? Non è tutto che hai bisogno per la vostra spazio è disponibile a Hogwarts. Vuoi visitare la vicenda di Hogsmeade, dove molti prodotti e venditori puoi servizi con i servizi che hai bisogno. Personalizzazione, ci piace. Ok. Un'automobile di giocci e le scopri, che si tratta di un'automobile, si tratta di un'automobile. Musi evitare o si tratta di un'automobile. Ah, che l'era. Che grazie da Merlin Ah, puoi recuperare gli animali e curarli in pratica Madonna Oh, no Questa è quella che mi copyright Anno sicuro Yes Holiday 2022 Dicembre, dai, dicembre 2022 Anche se non è precisa la data È quella, è quella, è quella Non ho detto Adesso c'è Il meet and greet Tipo Con gli sviluppatori No, il meet and greet Non è ganchiato Allora, che ne pensate ragazzi? È quello che avete visto Grande, cazzo Mi piace perché Chiaramente ci sono Le cose ben riconoscibili Ma altre completamente nuove Com'è giusto che sia And build a game out of it The movies, the books They all touched me in such a way Like it makes me want to go to experience Hogwarts It makes me put in so much more detail into this game Art book Questo è un art book Questo è un art book Dicembre esatto Dicembre Non esisterà nient'altro Ci vediamo in caso Ci barrichiamo Ma a questo punto Holiday Ma dici in realtà precisa Ormai Holiday Può essere Holiday dal 24 Dal 24 al 31 E lì Perché hanno scritto 2022 No, perché se non avessero scritto 2022 Holiday Poteva anche essere Quelle di gennaio Ma ovviamente no È una storia di opportunità E mani di esplorare il mondo È una storia di diverse storie Che sono veramente esclusivi Per chi erano in cui erano in il mondo Hogwart's Legacy È un storia originale Che è inizia in the late 1800s Tu sei un studente Che è inizia Inizia a la famosa School di Witchcraft e Wizardry Inizia Inizia a la qualsiasi Che è molto inutile Quindi già c'è un po' di edge E un po' di mystery Il storia originale Che è il tuo storia Di quello che hai fatto Inizia in il mondo Che hai visto O che hai visto prima O che hai visto O che hai visto la nostra magia Con la nostra storia Che stiamo cercando Il fanci sono familiari Con il mondo Wizardry Dari 1900s e poi Ma ora Con questo mondo Possiamo di creare un spazio Che è il loro stesso Il fanci della serie Vanno che la magia Ha stato arrivato Per un'altra volta E che Hogwarts Inizia pure Ah è vero Sì E ci sta è stato un grande grande deal. Mi ha aiutato a designare una piece che nessuno ha mai visto mai. La Hufflepuff common room. As a Hufflepuff, you always wonder, «What is my common room supposed to look like?» It's close enough to the world that we know that fans will recognize certain names, they'll recognize spells, they'll recognize certain locations. I recognize that doorway, I recognize that classroom. But mostly, it's going to be an entirely new wizarding world that no one's ever experienced. When people engage in the wizarding world, what's the one anchor? What's the thing that everyone comes back to? What's the thing that grounds it all and grounds all these characters and grounds all these figures? And for us, we really felt like that answer was Hogwarts itself. That school, that famous school of witchcraft and wizardry is really what binds it all. How to bring Hogwarts to life? That was the very challenge. Because as everybody knows, Hogwarts is huge. Now we need to know exactly how this passage connects to this passage for games because you're going to have to walk it. And of course, again, the Sentient Castle, it's got new surprises up its sleeve. It likes to keep its students on its toes. We've put so many little secrets and passageways and rooms in this castle. We've recreated those very important locations and then there's these other places that are only mentioned in the books or just alluded to and we have to make the connective tissue that brings all that together. I think that in the world that the breathing world is very hard to do because it's all about the details. And as a concept team we really got into those details. We've studied history, studied architecture. I hope that when fans play the game they get as lost in it as I do. I can just be reviewing a side mission and all of a sudden I find myself wandering Hogwarts for like 45 minutes because it's so beautiful. The community is absolutely going to love Hogwarts Legacy. It's going to be so fun. Get that letter to Hogwarts and go to Hogwarts. We're so excited for people to come to this, to inhabit it, to actually enter the Hogwarts that we built. This is your Hogwarts Legacy. We truly hope you enjoyed the Hogwarts Legacy state of play. Our team is so grateful for the excitement and for the passion that all of you bring to this. It's truly what fuels us. On behalf of our team at WB Games Avalanche we want to thank you for being here today and we'll see you at Hogwarts. That's our show. We hope you're excited for the magic to come. See you next time. Mi è piaciuto un botto. Ho visto tante cose che sembrerebbero essere veramente interessanti. I combattimenti mi sembravano belli dinamici. I dettagli molto molto dettagliati. Sì, ma è rimasta questa cosa della data. Holiday 2022, beh. Ci poteva stare la data precisa a questo punto. Però, tanta roba. Sì. bello. Non vedo l'ora che esca, madonna. Niente collector per il momento ma un po' me lo aspettavo. La grafica meravigliosa. Adesso ancora va vista poi in con la risoluzione massima cosa che è impossibile vederla da da una live. Però sicuramente vedrai che già domani lo pubblicheranno. Bello, 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 bello. È mancato soltanto la data precisa la collector che annunceranno probabilmente via avanti. Spero che la facciano a questo punto, però vedremo, dai. Comunque, io stacco. Ci vediamo oggi, eh? Giovedì. Quindi ci vediamo domenica. Ah, domenica pomeriggio su YouTube. già. Torneino. Mario Kart. Va bene. Buona serata. E... a presto. Madonna, vorrei che fosse già dicembre. Orca vacca. Ciao, ciao. Buona serata. Torno. Torno. sè? Qua' sè? Buona serata. Grazie a tutti.